il movimento sarà una partita molto duro molto fisico dipende anche al tempo però anche se piove sicuramente sarà dura maggior parte dei giocatori ha giocato assieme con me a scuola diversi livelli di rugby giovanile a sud africa quindi siamo abbastanza amici tra di noi io mi sento più italiano che sudafricano quindi sono molto orgoglioso di essere nella maglia azura e sì di fare parte di questa squadra invece quello di sudafrica abbiamo tanti tifosi che viene a tifare per noi speriamo di avere stare più più pieno possibile avere tutto il sostegno dei nostri tifosi dietro di noi noi che siamo richiesto in questa zona siamo abituati di veneti però siamo trovato molto bene qui di lavorare anche il campo di petrarca si sta bene lì e sì